Ciao ragazzi, bentornati con la mia amica Anna, oggi andiamo ad aprire Barbi Calciatrice Prima è uscito il video del vestito di Barbie, andatelo a vedere e iscrivetevi al mio canale Mi chiamo Anna e me li cavo io Allora, prima di tutto cacciamola fuori Secondo che la apro e poi ve la faccio vedere Ecco fatto ragazzi, qui è la nostra Barbie Questo è il suo magnifico pallone Tutto rosa e nero Questa è la Barbie fatta bellissima Guardate i capelli Posso far vedere una cosa? Allora, poi fa la spaccata Adesso vi faccio vedere Appunto è una calciatrice come diceva prima la mia amica E questa bellissima maglietta Con maglietta Con i brillantini Questa è scritta anche Barbie Con la scritta Barbie Scusate se c'è riflesso la luce E le calze queste scarpette I pantaloncini E per finire vi faccio vedere una bellissima Il codino è rosa, che bello Vi faccio vedere una bellissima rovesciata in avanti Go! Che bella Guarda qua Ma che pezzinatura Bellissima Ok, se il video vi è piaciuto come sempre mettete like E iscrivetevi al canale Ciao! Mettete like! Grazie a tutti.